buongiorno cari amici di youtube adesso faremo vedere un modellino di elicotere si chiama ls io ls modem model questo è il telecomando fantastico telecomando con questo si può andare avanti indietro sinistra destra si accende e ci sono tre modi questo è per regolarlo e questo per l'acceleratore ok questa è la scatola molto bene apriamola si premono i bottoni aspettate ok aperto qui dentro c'è l'elicottero il telecomando è molto portatile si mette al contrario così e si mette qui ecco e si chiude qua ci dovrebbe essere l'elicottero ora lo facciamo vedere eccolo qui è venduto in mercato a 50 euro guardate che bello classiche linee blu ali molto flessibili belle guardate che bello io ce l'ho messo sotto carica con il cavetto alla presa della corrente e poi faremo un video come vola eccolo siamo pronti alla partenza qua c'è la luce ecco ha preso il segnale vediamo accediamo sta prendendo vedete che non beggia ok vediamo questo gioiellino all'opera grazie 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 a tutti. Ok ragazzi, abbiamo visto come vola. Arrivederci al prossimo video.